La piccola Isabella ha solo pochi giorni di vita, ma papà Mauro Icardi e mamma Vanda Nara sanno già come riempirla di ogni sorta di comodità Griffatissimi, ovviamente Gucci e Hermes sono le firme che compaiono sui regali destinati alla neonata da parte di amici e parenti La compagna del calciatore dell'Inter sta pubblicando su Instagram le foto dei doni costosissimi che, dalla copertina al cappellino, dalle calzine alle bavette, sono segnati da firme di importanti case di moda Per la coppia Isabella è la secondo genita nata proprio nel giorno del loro anniversario, come ha fatto sapere il calciatore su Twitter, con una foto che li ritrae pur che tre insieme in sala canta Vanda Nara è mamma di altri tre bambini nati dalla relazione che l'Argentina ha avuto dall'ex marito Maxi Lopez Para Ella no è il mejor momento para dormir tu quando sale il sole I.M.I.B.U. Chiocciola Mauro Icardi una foto pubblicata da Vanda Nara Chiocciola Vanda sottolineatura Icardi, in data, 4 novembre 2016 alle ore 3 e 3 pd I.M.I.B.U. Chiocciola Mauro Icardi una foto pubblicata da Vanda Nara Chiocciola Vanda sottolineatura Icardi, in data, 4 novembre 2016 alle ore 3 e 3 pd I.M.I.B.U. Chiocciola Mauro Icardi una foto pubblicata da Vanda Nara Chiocciola Vanda sottolineatura Icardi, in data, 4 novembre 2016 alle ore 3 e 34 pd Vandito su 11 alle ore 3 pd Grazie a tutti!